Superare i campanili per andare incontro al futuro. Sembra che la ricetta più gettonata per fare del Veneto un territorio più smart, efficiente e intelligente sia quella che ha come ingredienti principali le aree metropolitane. Se fino a ieri piccolo era bello, ora le città puntano alla grandezza e alla rete. Dopo Lapa, Treve, Padova, Treviso, Venezia, anche Vicenza vorrebbe pensarsi più metropolitana, puntando magari verso Verona per creare un polo ovest del Veneto o direttamente al Veneto centrale. Il candidato alla poltrona di primo cittadino per il centro-sinistra guarda proprio in questa direzione. Già oggi il 60% del PIM mondiale è prodotto dalle grandi aree metropolitane. Noi nel nostro piccolo dobbiamo allargare la dimensione del governo della città, quantomeno alla prima cintura urbana. Lavorando fianco a fianco con i comuni con termini, lì dove si può toccare con mano la qualità o meno dei servizi. Bisogna anche alzare la testa e tessere di rapporti importanti anche con le altre grandi aree metropolitane del Veneto, penso in particolare a quella del Veneto centrale che è già un'area metropolitana. E l'università è già esempio di quel che può essere la città metropolitana, mettendo in relazione territori e persone con i suoi 4.000 studenti e gli 800 laureati all'anno. Questo è uno degli strumenti e dei vettori fondamentali attraverso cui creare il grande polo dell'impresa a Vicenza.